Eccomi qui mi trovo con una grandissima, ti chiedo un saluto a tutti i tuoi fan che ti seguono da sempre Allora ciao fan, continuate eh, io sto qua Grandissima, allora ricordiamo il 7 marzo uscita un altro febbra agosto Ecco cosa ci convivi? Eh, io soffro, io sono un personaggio sofferente, soffro di dolore con il sorriso sulle labbra Bravissima, grande esempio, andatelo a vedere, è andata a vedere, sei straordinaria Grazie a te Prego, te lo meriti e ho per te la manina del soldatore Ciao